e adesso vi parliamo di giuliana desio e mario de felice lei bravissima attrice napoletana di tantissimi film di successo e tante fiction lui invece è proprio il mario de felice che abbiamo consociuto a uomini e donne ossia vi stiamo parlando della scelta ufficiale della ex tronista di uomini e donne ramona amodeo la loro storia ormai è terminata da tempo addirittura tempo fa si era parlato di una possibile soluzione trono proprio per mario ma poi non se n'è fatto più di nulla anzi da alcuni anni mario de felice sta vivendo una bellissima storia d'amore proprio con giuliana desio che ha un 20 anni in più rispetto a lui la loro storia d'amore era partita abbastanza insordina insomma non si capiva esattamente bene come stessero le cose e invece mario e giuliana hanno saputo stupire tutti e adesso nessuno ha più dubbi su quale sia veramente il sentimento che li unisce dice giuliana alla rivista oggi di mario è troppo bello mario è bello davvero pure troppo racconta la stessa attrice in merito al loro primo incontro ci siamo conosciuti in una scuola di recitazione io tenevo un corso e lui era tra gli allievi ci siamo ritrovati un anno dopo a una cena tra amici e non ci siamo più lasciati ma a quanto pare nemmeno il matrimonio potrebbe essere per loro un tabù infatti dice la stessa attrice del suo mario de felice sposarci ne abbiamo parlato la differenza d'età ho già detto che la definizione di toyboy è squallida perché lui sarebbe il giocattolo e io la giocattolaia in realtà siamo innamoratissimi e viviamo insieme